Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca torniamo a parlare dell'accoltellamento dello scorso fine settimana a Sansepolcro. L'aggressore resterà in carcere. Resta in carcere l'uomo che nella notte tra sabato e domenica ha coltellato un amico durante la sua festa di compleanno. Il violento episodio a Sansepolcro in via 20 Aprile nel cuore del centro storico del capoluogo Viturgenze. Vittime e ingressore avevano passato assieme la serata quando il 38enne, probabilmente dopo qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a fare apprezzamenti spinti nei confronti di una ragazza. Alcuni spintoni ma le acque poi sembravano essere più calme. Invece il 30enne avrebbe raggiunto la propria abitazione e preso un coltello. Quindi avrebbe attirato nell'androne del palazzo il 38enne, sferrando gli due fendenti, uno al torace, non lontano dal cuore, e l'altro alla milza. Stamani l'udienza di convalida dell'arresto del 30enne. La PM Giulia Maggiore ha formulato l'accusa di tentato omicidio. Il GIP ha confermato la misura cautelare. Dall'ospedale Lescotte, dove si trova ricoverato il 38enne, colpito dai due fendenti, arrivano intanto notizie positive. Le condizioni dell'uomo, che nei giorni scorsi era stato operato d'urgenza, sono migliorate. Pur essendo sempre in prognosi riservata, non sarebbe più in pericolo di vita. E a quasi dieci anni dalla scomparsa di Guerrina Piscaglia, e dopo la condanna in via definitiva di Gratiena alla B, questa mattina è ripresa la causa civile. Quasi un milione di euro è la cifra che Mirko e Lorenzo Alessandrini, il marito e il figlio della donna, hanno chiesto alla diocesi di Arezzo Cortone e Sansepolcro e all'ordine dei premostratensi come risarcimento. Gratiena alla B sta scontando in carcere 25 anni di condanna per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna. Sarà giudicato in contumacia, quindi non ha presente, non ha nemmeno nominato una legale che lo rappresenti in aula. E sempre il Tribunale di Arezzo ha stabilito che figli dei lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti di quelli dipendenti. Con questa sentenza il giudice del lavoro ha così accolto il ricorso presentato da un lavoratore contro l'agenzia da cui dipende l'impresa dove presta attività. Il lavoratore aveva infatti chiesto il riconoscimento delle borse di studio per le sue figlie. L'azienda aveva formalmente riconosciuto questo diritto ma la richiesta poi era stata bloccata a causa della mancanza del requisito della dipendenza diretta. Luca Innocenti del sindacato sottolinea adesso l'importanza della sentenza, una parità di trattamento che è un principio non sempre rispettato. E ancora al lavoro. Dopo quello del primo settembre scorso, Fium CGL e Fium Cisla con i lavoratori hanno indetto un altro sciopero all'opificio tecnologico di Terra Nuova Bracciolini. Mercoledì dalle 10 alle 12 fuori dai cancelli si terrà uno sciopero con assemblea. Ad oggi, fanno sapere i sindacati, siamo purtroppo costretti a prendere atto del mancato pagamento del saldo dello stipendio del mese di luglio e di agosto, spiegano. Il comunicato dell'azienda non dà garanzie. Tutto ciò fa crescere la nostra preoccupazione per ciò che riguarda il mese corrente e quelli a venire, in quanto concludono non vorremmo che diventasse la prassi causando così forti disagi alle maestranze. E adesso torniamo a parlare di accoglienza. Proseguono infatti i sbarchi e dunque gli arrivi anche in provincia di Arezzo. Sotto i riflettori, qui è finito il centro di accoglienza di Calbenzano, un cassa in un ex ristorante. Mentre continua il braccio di ferro tra regione toscana e governo, sui CPR, i centri per il rimpatrio, i migranti arrivano con numeri importanti nelle varie province toscane. Nella Retino e Subbiano, il comune con più richiedenti asilo ospitati. Oltre 100. Dal mese di luglio sono andati aumentando i numeri per la messa a disposizione da parte di privati di alloggi che vengono gestiti da cooperative su richiesta della prefettura. Chiaramente, viste le ultime emergenze, sono aumentati i numeri. Recentemente è stato utilizzato un ex ristorante nella frazione di Calbenzano per un CAS, centro di accoglienza straordinario. I comuni cosa possono fare? Quali sono gli aspetti che possono controllare, supervisionare? O è tutto demandato alla prefettura? Dunque, per quanto riguarda la nostra funzione, è quella chiaramente di collaborare con il Ministero dell'Interno, quindi collaborare con la prefettura, non creare intralci, ma di collaborare per garantire l'ospitalità e l'assistenza ai migranti. Il nostro compito comunque è quello di supervisionare, dal punto di vista del, diciamo, igienico-sanitario, della sicurezza pubblica, la gestione della situazione. Per quanto riguarda il nostro comune in particolare, come dicevo, la struttura che ospita qualche decina di migranti, chiaramente per noi è un po' sorvegliato speciale, perché, diciamo, anche i cittadini stessi si sono preoccupati dal numero. Ad oggi non abbiamo avuto segnalazioni scritte, perlomeno nessuna segnalazione anche verbale, di situazioni di allarmismo dal punto di vista della sicurezza pubblica. Abbiamo effettuato con il gestore più di un incontro, siamo in contatto diretto con la prefettura e quindi noi faremo i nostri dovuti controlli sulla struttura e sulla gestione anche, diciamo, dei ordinaria, insomma, per quello che riguarda, appunto, l'aspetto igienico-sanitario e per quello che riguarda, appunto, la gestione di questi ragazzi dal punto di vista della sicurezza pubblica. Anche perché se non ci fossero queste strutture, questo ovviamente non lo dice lei, ma lo dice la prefettura, l'alternativa sarebbe la Tendopoli. Sì, infatti ci sono svolti dal mese di luglio in poi numerosi incontri con i sindaci di tutta la provincia, la prefettura ha chiesto in mille modi collaborazione a tutti i sindaci per reperire strutture atte, insomma, ad ospitare i migranti. I numeri sono esplosi in quest'estate, quindi chiaramente l'emergenza era, diciamo, abbastanza rilevante in questo periodo, per cui dal nostro punto di vista ce la mettiamo tutta, senza, diciamo, strumentalizzare la situazione. Dal punto di vista politico non servono bagarre di nessun genere, non serve allarmismo e sicuramente l'arma migliore è il controllo e la supervisione. Vaccini anti-Covid è arrivata oggi la conferma sulla consegna del primo quantitativo di oltre 34.500 dosi. Ripartiranno quindi da lunedì 2 ottobre le vaccinazioni nei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Ecco, dottoressa Dei, i casi Covid sono di nuovo esplosi, tante le persone che comunque effettuano il tampone, e quindi il Covid c'è e circola. La domanda che ci fanno molti cittadini è sui vaccini. Come funzionerà da adesso in poi? La Regione ci sta dando indicazioni parallele a quelle ministeriali, e cioè i vaccini saranno disponibili a breve per i pazienti fragili. La fragilità è legata alle patologie, è legata all'età, è legata alla non autosufficienza. I vaccini stanno arrivando, siamo con la cabina di regia dell'azienda Toscana Sud-Est vaccinale, siamo in contatto con le indicazioni regionali, sono proprio in consegna in queste ore, in questi giorni, dopodiché saranno disponibili sia negli ambulatori degli igienisti, quindi dei nostri medici che hanno sempre vaccinato durante il Covid, negli ambulatori dell'igiene, non verranno chiaramente riaperti gli hub vaccinali, e poi saranno presenti nelle farmacie per i medici di medicina generale. E inizierà quindi la possibilità di prenotarsi sul portale della Regione, che in questi giorni è chiuso, ma a breve riaprirà di nuovo le porte, e poi andare dal medico di famiglia innanzitutto partendo dai pazienti in RSA e dagli oltre 65 anni. Fuori da queste categorie è facoltativo? Assolutamente sì, diciamo che non è obbligatorio, nemmeno in queste categorie è fortissimamente consigliato, perché come una bruttissima influenza, e adesso è una bruttissima influenza, può avere delle conseguenze molto importanti su persone fragili. Ma il riferimento è il medico di famiglia per un consiglio, per chiedere comunque cosa è meglio fare rispetto alla propria condizione di salute? Beh, diciamo che persone che hanno combattuto con il Covid in questi quattro anni hanno già visto quando si sono vaccinati come persone fragili, quindi nel momento in cui si riconoscono come tali, possono tranquillamente accedere al portale regionale e prenotarsi. Se hanno dei dubbi, comunque rivolgersi al medico di famiglia. E ancora sanità, infatti in programma una piccola rivoluzione propedeutica alla realizzazione dei lavori finanziati con il PNRR nella zona Aretina. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. Un importante trasferimento sta per essere messo in atto proprio nei prossimi giorni da parte della ASL Toscana Sud-Est, che interesserà le palazzine sia di via Curtatone, alle mie spalle, sia gli uffici di via 25 Aprile, ma non solo. Tutto questo per consentire di liberare la sede di via Guadagnoli e poterla ristrutturare con fondi PNRR. Abbiamo pensato di sacrificare la direzione aziendale e tutte le attività amministrative connesse. Si sposterà la direzione aziendale in un altro posto e l'immobile di via Curtatone ritornerà a servizio dei cittadini per la parte sanitaria. Tutte le attività di via che in questo momento vengono assicurate su via Guadagnoli e una parte delle attività che vengono assicurate a via 25 Aprile saranno ospitate nella sede attuale della direzione aziendale al Curtatone. Via Guadagnoli sarà dunque sottoposta a importanti lavori con fondi PNRR. Al termine del lavoro noi avremo una delle due casse di comunità finanziate dal PNRR. Una in via Guadagnoli e l'altra in Baldaccio di Anghiari. In via Curtatone prenderanno servizio anche tutte le attività sanitarie, quindi specialistiche, quindi la cardiologia, l'oculistica, gli ambulatori di neurologia, geriatria, un punto CUP, tutto il servizio sociale, quindi l'assistenza sociale e sociosanitaria. Spostandoci come direzione dal via 25 Aprile in via Curtatone noi lasceremo libero il posto a tutta la salute mentale che quindi si riaggregherà in un'unica sede questa volta e lo spazio ci dava la possibilità anche di allocare anche il servizio di assistenza domiciliare che sarà trasferito dall'attuale sede di via Guadagnoli in via 25 Aprile. Alla ex clinica San Giuseppe in piena ZTL finiranno gli ambulatori odontoiatrici e la guardia medica. Però saranno attività programmate quindi i cittadini potranno poi con uno speciale permesso di transito arrivare fino a destinazione perché avremo appunto una programmazione delle attività. Una parte della città, in particolare quella che insiste sull'area Baldaccio è prossima ad assumere un nuovo volto grazie ad una serie di interventi che in maniera determinante ne caratterizzeranno l'identità come area di servizi primari come quelli sanitari. hanno commentato il vice sindaco Lucia Tanti e l'assessore Alessandro Casi. Con altrettanta soddisfazione apprendiamo anche il concretizzarsi, proseguono, della realizzazione dell'ospis, struttura fondamentale per una città della salute a breve definita anche dal tunnel Baldaccio la cui ultimazione è in corso e farà da cerniera infrastrutturale tra le due aree Pionta-San Donato e Baldaccio. Voltiamo pagina per parlare di economia. Dal 1 gennaio 2024 finisce infatti il mercato di tutela gas. Estra sottolinea però che proseguirà il suo rapporto con i clienti. Estra vuole dare un messaggio di solidità, di continuità e di vicinanza alla nostra clientela assicurandogli che possono confidare su un player come il nostro che continuerà a rappresentare un servizio di prossimità e di vicinanza. Quindi è bene dare un occhio al mercato ma guardiamo alle società territoriali che non fanno il contratto e scappano ma che se contattate ci sono ci saranno sempre. Il mercato tutelato del gas è arrivato ormai al capolinea. Arera ha stabilito la fine del servizio dall'inizio del nuovo anno, il 2024. Un momento complicato, importante, in una fase cruciale della questione energetica. Abbiamo passato un periodo molto difficile, molto duro anche come aziende che nel caso di Estra hanno anche ammortizzato la crisi e la speculazione energetica. Questo passaggio è un passaggio fondamentale che dovrebbe andare ulteriormente incontro come mercato libero dell'energia alla cittadinanza, alla clientela. Estra continuerà a fornire clienti attualmente nel mercato di tutela gas secondo le modalità previste da Arera e senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti che riceveranno tutte le informazioni utili attraverso l'invio di comunicazioni scritte che perverranno entro il mese di settembre. Quindi il cliente a 3112 ha due possibilità nel mercato di maggior tutela. La prima è rimanere comunque sia in un mercato che è ibrido in qualche maniera che è di transizione tra la maggior tutela e il mercato libero, quindi un mercato cosiddetto placet. La seconda opportunità è quella di passare, ma come poteva fare in precedenza, a un'offerta del mercato libero, di Estra e di altri fornitori chiaramente. Quello che sarà fondamentale è una suddivisione del mercato, quindi la Arera ha tutelato i clienti vulnerabili, quindi quelli che hanno determinate caratteristiche sopra i 75 anni o un reddito ISEE particolarmente basso, che finiranno in automatico in un mercato di vulnerabilità, si chiama. Quindi è una continuità del mercato di maggior tutela per quelle categorie particolari che sono quindi tutelate da parte della Arera. Estra ricorda infine che non chiamerà i suoi clienti per gestire la fine del mercato di tutela, anzi chiede loro di prestare molta attenzione ad eventuali tentativi di truffe telefoniche. Andiamo adesso alla frazione della Chiassa, dove sta per concludersi un importante intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per il ripristino della sicurezza idraulica. Le gabbionate metalliche, danneggiate dal tempo e dalle piene, presentavano gravi danni e in alcuni punti si erano addirittura ribaltate nell'alveo. Con l'andare del tempo così, paradossalmente, quella che era nata come un'opera di difesa di sponda si era trasformata in un pericolo per la frazione alle porte di Arezzo, la Chiassa, contribuendo a moltiplicare il rischio idraulico. Adesso una complicata operazione di ripristino sull'omonimo torrente è quasi volta al termine. Il paese era stato infatti soggetto ad alluvioni che avevano interessato il centro della frazione del comune Aretino. Le caratteristiche dell'aria e la gravità della problematica hanno reso necessario un risanamento dell'opera che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha previsto di sottoporre a manutenzione ordinaria inserendo l'opera nel piano delle attività 2023. In questi giorni l'intervento è in fase di completamento, spiega il direttore Francesco Lisi. L'operazione ha interessato circa 15 metri di sponda, consentirà di evitare nuovi futuri crolli e ribaltamenti locali e permetterà di preservare le opere esistenti e con esse le case e i resedi presenti in quell'area. Particolarmente complesso è stato raggiungere l'area di intervento. La presenza di fabbricati e relativi annesti ha reso necessaria la realizzazione di un guado e la successiva canalizzazione delle acque. Quindi sono state rimosse le gabbionate danneggiate e ammalorate, sostituite con nuovi elementi posti su due ordini di forma e dimensioni analoghe alle precedenti. Torna ad Arezzo il mercato più atteso dell'anno che ha quasi raggiunto la maggior età. La diciassettesima edizione del mercato internazionale è infatti in programma dal 6 all'8 ottobre. 300 gli stand in città provenienti da tutto il mondo con proposte che vanno dal cibo all'artigianato. 190 gli operatori stranieri provenienti da 35 diversi paesi che si dislocheranno come ogni anno con i loro stand tra via Spinello, piazza Jacopo, aree Eden, via Guadagnoli, via Niccolò Aretino e via Margaritone. Ma lungo gli oltre 3 chilometri di prodotti artigianali e gastronomici anche la presenza di operatori della provincia di Arezzo, circa un centinaio. E questo fine settimana invece sempre nel centro storico aretino torna la fiera antiquaria con centinaia di espositori impegnati a proporre oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo. L'appuntamento questa volta sarà arricchito anche da un prezioso evento espositivo. Venerdì 29 settembre alle 18 presso la galleria Rosi Boa si inaugura la mostra delle opere di Franco Fedeli, pittore, scultore toscano, tra cui anche 15 tavole dedicate proprio alla fiera antiquaria e realizzate nei primi anni 70. Un'altra iniziativa di successo a Terra Nuova Precciolini si concluderà questa sera con i consueti fuochi d'artificio la 409esima edizione della Fiera del Perdono. Si racconta il volto di un territorio che d'altronde sono 409 anni, è una tradizione consolidatissima che non è sentita solo dai terrenovesi ma dall'intero Valdarno e come tale noi questa festa la viviamo. La prima risale infatti al 1615, da allora la comunità di Terra Nuova Brecciolini non ha più voluto interrompere la tradizione di questo evento che segna la fine dell'estate e l'inizio della stagione autunnale. L'impegno ovviamente è quello di promuoverla sempre di più perché abbia anche una capacità attrattiva rispetto a tutta la nostra vallata. Così si è conclusa l'edizione numero 409 della Fiera del Perdono, quest'anno con 300 espositori e un programma ricco di appuntamenti. Questa è una festa che è frutto di una comunità, ovviamente a spingerla è il senso di appartenenza, la tradizione, la voglia di stare insieme e poi c'è anche il lavoro fattivo che ci permette per l'appunto di offrire tante iniziative nel corso di pochi giorni a decine di migliaia di persone. Il meteo quest'anno ci ha assistito probabilmente restituendoci quel qualcosa che ci aveva tolto l'anno scorso e anche stamani la partecipazione è veramente egregia, dai piccoli fino agli adulti. In tutte le manifestazioni vediamo tanti volti, tanti sorrisi e questo è ciò che ci ripaga maggiormente. Tornata anche l'attesa, Fiera Nazionale degli Uccelli diventata uno dei momenti più partecipati con appassionati arrivati da tutta Italia e la 31esima mostra mercato degli animali da cortile. Le persone stanno un po' ritornando ad avere dei pollai a casa e piace molto la gallina ornamentale perché è sia bella e sia produttiva. Trasferta romana per il comune di Castiglion Fiorentino e l'ente palio città di Castiglion Fiorentino. Il prossimo 22 novembre durante l'udienza del mercoledì una delegazione potrà assistere all'udienza generale del Santo Padre. La prima volta che i pellegrini provenienti dalla cittadina castiglionese hanno incontrato Papa Francesco risale alla 2015. E sempre in Val di Chiana arriva un contributo dal Ministero della Cultura per sostenere le attività di Scannagallo. L'associazione di Pozzo della Chiana è risultata infatti tra i vincitori del Bando Fondo Nazionale per la rievocazione storica orientato a sviluppare l'organizzazione di eventi di carattere storico e di iniziative di valorizzazione dei beni culturali per incrementare l'attrattività turistica dei territori. E adesso torniamo in Val d'Arno. Io sono ancora qua e già è il titolo del primo Memorial a Mauro Mancini Proietti ispirato alla canzone di Vasco Rossi che si terrà sabato 30 settembre alle 15 allo stadio Brilli Peri. Un'iniziativa per ricordare il professore deceduto improvvisamente un anno fa a causa di un incidente in moto avvenuto lungo le strade del Val d'Arno. Proietti è stato anche vicequestore del commissariato della polizia di Montevarchi e ha avuto molteplici passioni dal mondo subacqueo al calcio di cui era tifoso e arbitro. Per questo motivo la manifestazione a carattere sportivo vedrà affrontarsi in un triangolare di calcio le formazioni composte essenzialmente da amici ed ex colleghi. Ospite d'eccezione è anche la fanfara della polizia di Stato. Ed il Panathlon Club di Arezzo invece ieri ha celebrato nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia i suoi primi 60 anni. Vediamo il servizio. Ci siamo messi al servizio della comunità quando non era possibile fare le nostre normali attività durante il lockdown. Stiamo cercando di lavorare con le scuole. Si parla oggi molto di scuola primaria. Quindi anche lì sono tante cose. Quindi mi porto dietro. Mi direi una cosa sola. La soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono. Nozze di diamante per il Panathlon Club Arezzo che ha celebrato il 60esimo anniversario. 60 anni sono tanti, però siamo un club ancora estremamente vivo. Ci hanno aiutato tanto quelli che sono passati prima di noi e che hanno seminato molto bene. Noi continuiamo sulla nostra strada. Un traguardo importante festeggiato nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo alla presenza di autorità del Panathlon e dei rappresentanti delle istituzioni con il patrocinio della provincia, del comune e del coni. I tempi sono cambiati. Siamo passati attraverso tante problematiche. Non ultimo la pandemia, il lockdown, che ha cambiato un pochettino tante cose. Il modo di fare. Noi continuiamo nel nostro piccolo a renderci utile. Cerchiamo di renderci utile al movimento sportivo della città. Un movimento a 360 gradi. occupandoci sia dello sport di eccellenza, ma anche dello sport di base. Con un occhio di riguardo puntato verso i giovani, verso i bambini. Perché è da lì che parte tutto. Quindi saper trasferire, aiutare a saper trasferire dei concetti sani del fair play, del rispetto delle regole, del rispetto degli altri, della lotta al bullismo. Parliamo di integrazione, di inclusione. Quindi sono tutti quei problemi che oggi giocano un ruolo importante perché sono estremamente formativi per i nostri ragazzi. Passiamo al calcio. Tre partite di fila al comunale nel giro di nove giorni. Si comincia sabato alle 20.45 con Arezzo Pontedera, sesta giornata del campionato. Si prosegue martedì 3 ottobre alle 14 con Arezzo Lucchese per il primo turno di Coppa Italia. Una gara secca con eventuali supplementari e rigori. E si conclude lunedì 9 ottobre alle 20.45 con Arezzo Cesena, big match di campionato. I biglietti per Arezzo Pontedera sono già disponibili, mentre la prevendita per Arezzo Lucchese prenderà il via venerdì alle 14.00. E tre ori e un bronzo invece per la ginnastica Petrarca nella prima prova del campionato regionale specialità delle categorie allieve junior. La gara è andata in scena a Viareggio e ha visto ginnaste di ritmica di tutta la regione confrontarsi tra i vari attrezzi della disciplina con le atlete Petrarchine che sono riuscite a centrare tanti bei piazzamenti ai vertici delle classifiche. Miglior prestazione firmata da Anna Battistini che tra le junior tre è riuscita a mettersi al collo una doppia medaglia in virtù del trionfo a palla e clavette. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie.